L'appuntamento di quest'anno sarà molto impegnativo e ricco. Avremo la presentazione di un approfondimento, di uno studio che abbiamo fatto sugli indici di riciclabilità, perché l'anno prossimo, ricordiamoci, abbiamo il primo appuntamento della resa dei conti con l'Europa con i primi obiettivi. Avremo diversi appuntamenti qui presso lo stand con i Talk Ambiente, ricchissimo panel quest'anno, tutti gli appuntamenti poi sono disponibili sui nostri social, parteciperemo a convegni, abbiamo organizzato convegni presso le sale qui a Ecomondo e assolutamente poi momenti d'incontro qui allo stand con le imprese associate. Quindi Ecomondo 2024, Ass Ambiente C'è, padiglione B3. Esattamente. Non mancate che facciamo a muina.